3.610 sanzioni in due settimane, oltre 527.400 euro la montare complessivo delle multe, somma dalla quale potrà essere sottratto il 30% in caso di pagamenti nei giorni immediatamente successivi alla contestazione. Sono queste le cifre che accompagnano le prime settimane di attività dei due nuovi autovelox sulla circonvalazione e difenza entrati immediatamente all'interno di dibattiti e polemiche politici e fra comuni cittadini. I dati sono stati comunicati martedì pomeriggio in consiglio comunale dell'amministrazione Manfredi si riferiscono al periodo dall'8 settembre, giorno di attivazione, al 22 settembre. Numeri che secondo l'amministrazione confermano la pericolosità del tratto di strada a causa della alta velocità con la quale viene percorsa oltre il limite previsto di 70 km orari. In quel tratto di strada in quattro anni dal 2016 al 2020 si sono verificati 24 incidenti, 5 gravi e 1 con esito mortale. Numeri che però non sono state altro che benzina sul fuoco nel confronto fra maggioranza e opposizione. Lungo infatti è stato il botto e risposta dedicato alla circonvalazione in consiglio comunale. L'opposizione nei giorni scorsi ha sollevato possibili problemi di legittimità riguardo ai due apparecchi elettronici. Il comune è convinto di aver seguito correttamente le norme vigenti, tuttavia se ad aver ragione fossero i consiglieri di minoranza, visti i numeri delle sanzioni, esploderebbe un caso riguardante i ricorsi degli automobilisti multati con costi non indifferenti per il comune difenza. In effetti c'è già qualcuno pronto ad aderire alle vie legali. Si tratta dell'automotoclub Romagna, non nuova ad azione di questo tipo contro le amministrazioni pubbliche, l'ultima nei confronti del comune di Cervia per i nuovi autovelox sull'Adriatica. La questione legata ai dispositivi di monitoraggio della velocità è resa estremamente complessa dalla strada stessa costruita prima del 1992 e quindi prima delle nuove normative sulla viabilità che classificano le strade A, B, C, D ed E, contemplandone quindi i possibili interventi. Nella progettazione dei lavori che il comune ha svolto in tutti questi anni, la circonvalazione è stata considerata la parte di una strada urbana di scorrimento e i lavori realizzati con l'obiettivo di raggiungere la catalogazione D. Il tutto è legato alla realizzazione dello sparti traffico centrale che il comune aveva inserito nel 2017 nella programmazione degli interventi da realizzare, ma la cui concretizzazione oggi è ancora sospesa proprio per le norme sulle infrastrutture stradali. Per far luce sulla questione sarà chiesta quindi una relazione di fattibilità ad uno studio specializzato.